Sara Bertaglia e Severino Doppi saranno i protagonisti della prossima puntata di Essere benessere l'etica del vivere, nel corso della quale verrà trattato il tema Il cristallo e la fiamma, argomento fortemente vibrazionale, più che mai coinvolgente e interessante. La trasmissione assolutamente da non perdere andrà in onda sabato 6 maggio alle ore 21 su Telecolor, canale 17 del digitale terrestre, oppure sarà visibile in diretta streaming collegandosi a www.telecolor.net o in diretta Facebook su Telecolor Green Team